Prevedibile, già scritta, però come ho detto anche altre volte, questa era una pagina già scritta, un po' una pantomima che è stata realizzata, però io sono un uomo delle istituzioni, Presidente del Consiglio, Sindaco, quindi collaborerò col Sovrintendente ovviamente nell'interesse del San Carlo, dei lavoratori e delle lavoratrici e ovviamente nel cercare di realizzare un teatro sempre di più forte nel mondo, quindi da parte mia non c'è nessun astro, nessun rancuro, ho fatto una battaglia legittima, secondo me giusta, molto grave che non si siano ascoltati gli altri candidati, che sia stata fatta una manifestazione di interesse che per me doveva avere un valore molto serio, per altri era una pantomima, quindi andiamo avanti nell'interesse del teatro e della città ovviamente.